Tempesta la ex di visite telefonate indesiderate scatta l'arresto nei guai per stalking un 55enne costatese che è stato intercettato dai carabinieri di zona. Ancora casi da Codice Rosso nel Biellese come nel Nazionale. Certo fa più effetto quando a finire in manette è un residente della zona, dove come a Cossato ci si conosce praticamente tutti. Nello specifico parliamo di violenze per il momento presunte di uomini nei confronti di donne con le quali hanno avuto una relazione. Nel fine settimana i carabinieri hanno proceduto ad arrestare in fragranza un uomo di 55 anni che si era appostato sotto casa dell'ex compagna in attesa che tornasse. Nonostante nei suoi confronti fosse stato emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento, dopo che negli ultimi giorni l'uomo aveva inviato alla donna numerosi messaggi ed aveva effettuato telefonate a raffica. Nel corso della perquisizione l'indagato sarebbe stato trovato in possesso di un coltello. L'uomo è difeso dall'avvocato Carla Montarolo. Così come aveva accennato lo stesso procuratore capo Teresa Angela Camelio, nel suo caso con un divieto di avvicinamento in corso potrebbe configurarsi l'ipotesi del braccialetto elettronico.